A marzo dell'anno scorso, edizione Alphabeta Farlag di Merano, una casa editrice che dalle sue origini si è sempre mossa sul bilinguismo, trattandosi di una realtà, quella dell'Altoazes Utirol di Confine, ha inaugurato una nuova collana che si chiama Parole del Tempo, Zeitwort. Una collana appunto bilingue, nel senso che coinvolge scrittori di lingua italiana e scrittori di lingua tedesca. Collana curata da me, Giovanni Accardo, per la parte italiana e da Anna Rottersteiner per la parte in lingua tedesca. Parole del Tempo intende esplorare, anzi far esplorare a dieci autori di due lingue, due realtà culturali diverse, una parola che la redazione della casa editrice ritiene significativa della nostra epoca. E la prima parola che abbiamo scelto è la parola risentimento. Ci pare che l'Italia di oggi, l'Europa di oggi, sia profondamente e tristemente segnata da questo stato d'animo che contrappone gli uni contro gli altri, alimentato peraltro in maniera significativa dall'uso, vorrei dire, perverso che viene fatto dei social network. Trattandosi di un progetto bilingue, è stato coinvolto anche un editore di lingua tedesca, l'Inbus Verlag di Innsbruck, che ha il compito di commercializzare e distribuire nei paesi di lingua tedesca i testi appunto in quella lingua. Il primo volume, come dicevo, è uscito contestualmente nelle due lingue, quindi contestualmente in Italia, Austria, Germania e Svizzera, a marzo dell'anno scorso. Per gli autori di lingua italiana, questo è il volume, i cinque autori sono Alessandro Banda, Giorgio Falco, Elena Stancanelli, Nadia Terranova, Giorgio Vasta. Questo è il volume, invece, curato, come dicevo, da Anna Rotensteiner con gli autori di lingua tedesca, tutti austriace, che sono Clemens Berger, Anna Kim Sepp-Mahl, Lydia Mischkuling, Anna Weidenholzer. Di cosa si tratta? Allora, comincio con presentarvi i racconti degli autori italiani. Alessandro Banda, con Dialogo risentito di uno sconosciuto enigmatico, questo è il titolo del suo racconto, ha scelto la strada del dialogo a due voci, sul modello di Petrarca o, se vogliamo, delle Leopardi, delle Operette Morali, costruendo così un testo che è tutto giocato sulla negazione e sul paradosso e costantemente sul filo dell'ironia. Uno dei due personaggi, o per meglio dire una delle due voci, afferma ripetutamente la sua estranetà al risentimento, stato d'animo, che assicura di non provare mai. Eppure, fino, diciamo, dalla prima all'ultima riga, il lettore si interrogerà costantemente proprio sulla attendibilità di tale affermazione. Con Lele, Giorgio Falco ci porta nel mondo del calcio, forse per meglio dire nel mondo dei suoi tifosi, scrivendo un racconto che ha per protagonisti un padre e un figlio, fieri avversari, giacché uno tifa per la Juventus, mentre l'altro per l'Inter. E attraverso questa coppia, padre e figlio, ci fa vedere in filigrana come cambiano le Domeniche degli Italiani, dagli anni settanta a oggi, segnati appunto dalle partite di calcio, dalle vittorie, dalle sconfitte, non solo delle proprie squadre, ma anche della propria vita, e dunque dalle rabbie, dalle recriminazioni, fino all'esplodere del risentimento in un Lele adulto e ferito dalla vita. Un ricordo arriva all'improvviso sulle note di una canzone, una sorta di Madeleine che travolge la memoria di Anna, protagonista insieme a Sergio, del racconto di Elena Stancanelli, Tutto ciò che non sappiamo, e guasta la breve fuga da Roma, bastarda città irredimibile, come viene definita da Anna, che sembra odiarla come si odia una malattia. Ecco che il risentimento investe prima la città e poi un ragazzo giamaicano che emerge nel ricordo di Anna e che la riporta a Barcellona, mentre Sergio è piuttosto colpito, diciamo così, dal risentimento che invece riguarda il passato di lei. Tutto il racconto dà al lettore la sensazione di qualcosa che è accaduto e che però rimane sempre in ombra. Diviso in tre momenti, tre stati, come recita il titolo, il racconto di Nadia Terranova si snoda in tre luoghi diversi dell'Italia, accumunati dall'inquietudine della protagonista. Si apre con una coppia ritratta nel momento dell'amore e della passione nascente e si chiude con una coppia dove i silenzi hanno il sopravvento sulle parole. Nel mezzo si colloca la riflessione a tratti onirica, a tratti allucinata, di una scrittrice sulla letteratura come luogo della vita e della morte, sulla felicità e sul risentimento che talvolta accompagna le relazioni più intense, ad esempio quelle con i genitori o quelle di coppia. Un'educazione sentimentale all'insegna del risentimento è il racconto di Giorgio Vasta, storia del mio presente, che potremmo definire la biografia di un uomo che sin da bambino è stato illuminato da questo stato d'animo. Attraverso climax, elenchi, accumuli, enumerazioni, il risentimento si dispiega e assume forme diverse. è la linea disegnata da Osvaldo Cavandoli, è il nome di una ragazza, l'indecenza di un compagno di liceo, le risate delle persone, le figurine panini, le parole dei viaggiatori in treno, la città di Palermo è infine una tartarugata, cioè una gatta dal pelo simile al guscio di una tartaruga. Basta uno scrittore che non lavora mai sulla trama, ma piuttosto sulla lingua, mettendo al centro appunto la capacità che ha la lingua di definire e dare forma al reale. Dicevo, l'anno scorso sono usciti i primi due volumi, quindi quello che vi ho adesso presentato in lingua italiana è quello in lingua tedesca, ressentment, che è un termine francese proprio perché, come spiega Anna Rottesteiner nell'introduzione, nella lingua tedesca manca questa parola. Adesso i due volumi sono stati tradotti nell'altra lingua, quindi questo è il volume che vi ho appena presentato però tradotto in lingua tedesca, quindi distribuito da Lingus Verlag nel mondo nel mondo di lingua tedesca e questo invece è il volume dei cinque scrittori austriaci che i lettori italiani possono leggere appunto in lingua italiana. Di cosa si tratta? Si tratta di appunto cinque racconti che messi a confronto con i racconti di lingua italiana hanno delle caratteristiche diverse ed è questo che a noi interessava e siamo contenti di notare questa differenza perché ci piace che emergano diciamo le differenze non solo linguistiche ma anche di immaginario con cui gli autori di due nazioni confinanti affrontano appunto la parola che noi abbiamo scelto che ripeto è il risentimento. E così il racconto di Sepp Mall che prende a prestito la prima strofa di una popolare canzone crudele e scherzosa al tempo stesso, Un cane andò in cucina per dare il titolo al racconto, colloca la vicenda ai tempi del nazismo in una non meglio specificata località del Tirolo, l'epoca dei trasferimenti forzati durante la quale gruppi di persone tra i più disparati sono costretti a trovare un sistema di convivenza spesso in spazi ristretti. Sepp Mall delinea così in modo sottile il rancore che agisce in profondità come i pregiudizi e le offese che ruotano in questo racconto come vedrete intorno alla lingua. Il tema del nazismo, della Shoah, compare anche nel racconto di Lidia Mischkulneg, l'intitolazione, un testo piuttosto complesso in cui la protagonista e io narrante Lilla, attrice carinziana con radici slovene, svolge un tentativo radicale di interrogare se stessa ripercorrendo storie di vittime carnefici del nazismo e in questa sorta di percorso, che è un percorso non solo nella storia ma soprattutto un percorso interiore e familiare, ecco che le vicende si combinano in un intenso monologo. Il racconto di Clemens Berger, Caffè Europa, è invece ambientato nella cornice concreta della Zollergasse nel settimo distretto di Vienno, ovvero il quartiere più alla moda della città, quello della scena creativa e artistica con i bar, i ristoranti, i negozi, dove compaiono una serie di luoghi comuni che caratterizza il fitto dialogo, la fitta conversazione tra due giovani protagonisti e quindi un racconto che fa emergere tutta una serie di luoghi comuni e di giudizi negativi finché non arriva un inatteso finale. Anna Widenholzen, col racconto Altri due, racconta due storie in parallelo che poi si incontrano nel finale. Ines si è messa con Stefan, stanno insieme da poco tempo quando lei decide di uscire dalla sua vita piantandoli in asso. Oscar è un farmacista che detesta nel vero senso della parola i suoi clienti, è uno che crede di sapere tutto. Queste due storie diciamo sono due storie di ferite, c'è qualcuno che ha ferito un altro, qualcuno che si sente ferito da qualcun altro e quindi ecco il risentimento. Infine Stottville, New York di Anna Kim racconta una residenza per artisti chiamata Stottville che si trova nell'omonimo paese a due ore di distanza da New York. Qui sono ospitate otto borsiste, quattro scrittrici e le loro rispettive traduttrici e all'interno di questo gruppo sbocciano antipatie e pregiudizi, le relazioni, i dialoghi, soprattutto il non detto e tutto all'insegna del risentimento, dell'invidia, delle incomprensioni che le caratterizzano. Siamo molto contenti di questo progetto e speriamo che i lettori possano leggere entrambe le raccolte proprio per mettere a confronto due realtà culturali, linguistiche e letterarie come quella italiana e quella austriaca intorno a una parola che questa volta è il risentimento. Stiamo già lavorando alla prossima parola e quindi alla prossima serie, la parola scelta e indifferenza. Più avanti magari vi faremo un video per presentarvi i cinque autori di lingua italiana e i cinque autori di lingua tedesca che abbiamo scelto.